Il manto in erba sintetica dello stadio Marco Tomaselli sarà omologato sia per il calcio che per il rugby. Il sindaco Roberto Gambino fuga i dubbi che avevano messo sul chivalà soprattutto le società calcistiche e la Federazione Italiana Gioco Calcio. Nessun problema dunque, l'erba sarà capestabile sia dai giocatori di calcio che da quelli del rugby. Qualcuno però aveva manifestato dubbi e perplessità sull'altezza dell'erba che potrebbe causare un rallentamento del giropalla per il calcio e quindi rendere non omologabile l'impianto. Stando però alle rassicurazioni del sindaco non sarà così. Vigileremo, dice il primo cittadino, sull'andamento dei lavori affinché tutto vada come previsto. Il problema tuttavia è che i lavori non sono ancora cominciati. Si era detto che dopo le feste di Natale operai e tecnici si sarebbero messi al lavoro ma purtroppo non è stato ancora così. Quando siamo a marzo e la Pasqua si avvicina sempre più ancora nessun intervento è stato fatto. Il ritardo sarebbe stato causato da alcuni problemi logistici oramai a quanto pare risolti, dicono al Comune, e quindi a breve si aprirà il cantiere. L'impianto dovrebbe essere chiuso agli atleti, i lavori dovrebbero essere completati entro quattro mesi. Insomma, per l'inizio della prossima stagione agonistica l'impianto dovrebbe tornare fruibile.